Allora, sì, in effetti no, se vai dove c'è il fiume, oh, saccio, ti lascio il telefono. Perché? Eh, perché se può, così almeno, può chiamarmi, ok? E come ti faccio a chiamare se non c'è il tuo telefono? Mi do la password. A me, puoi chiamare il ristorante, puoi chiamare il chantal. Ma no, ma che problema c'è? Scusami. Perché allora, socio, guarda, ti faccio vedere, vedi? Se tu prosegui dritto, arrivi al canale, però devi fare tutto questo giro qua, per la te quella del lago. Sì. Mentre invece se continui ad andare con la via. È un'altra parte, è il lago, praticamente. È di là. Non è difficile, è sempre dritto in fondo alla via di là, sinistra, poi la quarto-destra e si è arrivato. Va bene. Ciao, socio. Ciao, socio. Buon'avventura. Sono ritrovati in questa zona, ma non so cosa sia. Mi sembra che c'è una specie di tribuna tra baseball. Assolutamente a vedere, subito. Io stavo. Wow, ci sono un sacco di graffiti qua, fighissimi, guardalo, il lavoratore istancabile, non si fa mai mancare un goccettino di vino, non da boh, no, l'ultima uscita prima dell'aeroporto, ah, vuoi portarmi, ho capito dove vuoi portarmi, è il barettino che c'è là sotto, sì, sì, il panico, il fiore, quello è un tiglio, guarda un tiglio come deve essere, non come quelli di Rubecco, fai brindisi, ciao ragazzi, ciao, 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 Finalmente in aeroporto, allora adesso mi toccherà fare almeno 10-12 ore di volo, quindi inutile che faccio delle riprese ragazzi, ci vediamo direttamente a Milano Ciao 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 Ciao